Oggi abbiamo invitato Valeria Raffa, Program Coordinator Europe di Avixa, per fare un commento insieme sull'ultima ricerca di mercato di Avixa, che desidera fare il punto sulla situazione Covid e soprattutto sui tempi che saranno necessari perché il mercato possa tornare a valori precedenti all'epoca della pandemia. Il titolo della ricerca è 2020 EV Industry Outlook and Trends Analysis. Per quale motivo Avixa ritiene che le ricerche di mercato siano così importanti? Le ricerche di mercato sono sempre importanti per cercare di fare delle previsioni su come andrà l'andamento del mercato nel passare degli anni. In questo momento così difficile e complesso c'è chi quasi dice che non abbiano più senso perché ci troviamo appunto in una situazione troppo nuova, in cui è troppo difficile fare previsioni. Invece come Avixa pensiamo in realtà esattamente il contrario, cioè è proprio questo il momento di cercare di raccogliere dei dati e delle informazioni a livello generale per cercare di pianificare per quanto possibile perlomeno, ma per cercare di avere un po' di punti fermi e punti di riferimento per quello che potrà essere lo scenario o gli scenari futuri. La ricerca è stata fatta a livello globale, ma noi siamo in Italia, quindi come possiamo riportare questi dati alla situazione europea e poi a quella italiana? Potresti farci una sintesi dei dati, delle valutazioni che emergono dallo studio? Certo, allora sicuramente è comunque interessante dare uno sguardo a quello che può essere l'andamento generale, globale a livello di tutto il mondo, ma posso già anticipare che tra agosto e settembre verranno poi rilasciati anche gli altri IOTA, quindi sempre lì Industry Outlook e Trends Analysis, anche proprio relativi alle diverse regioni del mondo e ce ne sarà uno specifico sull'Europa che chiaramente avrà dei dati più specifici anche sull'Italia. Quindi per qualche informazione più precisa, dato più preciso, nei prossimi mesi avremo risposte più chiare. Allora, io ricordo comunque che il comunicato stampa completo è disponibile sul sito di Avixa che può essere sicuramente comunque interessante da leggere in tutti i vari dati. Diciamo che a livello generale quello che si può dire è che ovviamente il mercato globale dell'audio-video professionale subirà una decrescita di circa l'8% nel 2020, 8% che è un dato più duro di quello che a livello generale sarà l'impatto sul PIL globale che invece si stabilizza più su una decrescita del 4-5%. Il settore sicuramente riprenderà a crescere dal 2021, ma non si supereranno, anzi raggiungeranno e supereranno i livelli diciamo ottenuti nel 2019 prima del 2020 e appunto dati alla mano si prevede che il settore aviprofessionale genererà circa 269 miliardi di dollari in ricavi appunto dal 2022 in avanti. Questo è un po' diciamo il succo completo dell'analisi. Lo studio prevede una decrescita e poi una crescita veloce, più veloce di quella che ci sarebbe stata in assenza dell'evento pandemia. Secondo voi perché questo si andrà a verificare? Sì può sembrare strano ma in realtà anche dando uno sguardo anche a livello diciamo delle crisi passate nella storia c'è sempre stata questa tendenza di crescita ancora più rapida di quella che ci sarebbe stata senza il momento di crisi. Questo perché tutti i settori, l'economia di base una volta che si riprendono cercano di tornare a quello che era il livello pre-crisi e quindi ci sarà una crescita più rapida. Ovviamente ci vorrà del tempo, non sarà una cosa immediata e ovviamente il fatto che il tasso di crescita sarà più alto e più rapido non significa però che ci si riprenderà completamente e si raggiungeranno appunto come dicevo prima i livelli che si erano spiegati prima. Quindi sì ci sarà una crescita una crescita veloce ma per raggiungere i livelli che si erano previsti per questi anni del 2020, 2021 e 2022 in realtà si dovrà aspettare il 2025. Quindi sempre per dare uno sguardo ai dati e fare un po' di esempi proprio pratici si era previsto prima della crisi che si sarebbero raggiunti nel 2024 i 325 miliardi di dollari. Adesso si prevede comunque una crescita in questo senso ma con un massimo di circa 315 miliardi di dollari nel 2025. Quindi appunto si crescerà rispetto a quello che c'è stato l'anno scorso e senza dubbio quest'anno velocemente, subito e poi senza però raggiungere il massimo che sarà previsto prima. Quali sono i mercati verticali che secondo voi reggeranno meglio in questo periodo e quelli che si riprenderanno anche meglio nell'epoca post pandemia? Allora senza dubbio il mercato corporate, quello che rimane quello principale per l'audio video professionale, ha 52 miliardi di dollari previsti per il 2020. Si prevede che anche i mercati dell'energy utility e trasporti subiranno un tasso di crescita molto alto, complessivamente anche qui nel periodo di tempo previsto tra il 2020 e 2025, circa del 10% ciascuno. E senza dubbio un dato interessante è il fatto che tutte le nuove direttive in merito a salute e sicurezza guideranno questi cambiamenti anche in relazione a tutti i temi della smart city, smart grid e dei trasporti. E questo è sicuramente un tipo di trend che non era prevedibile prima della crisi e che sarà molto peculiare di questo tipo di situazioni in cui ci troviamo. E lo studio evidenzia anche come il covid forzerà l'innovazione, ma questo che cosa significa esattamente? Beh allora come tutti abbiamo ovviamente potuto abbiamo potuto fare esperienza in prima persona, questa situazione di crisi sanitaria di pandemia ha portato alla distanza sociale. e questo è successo in modo più pesante o meno pesante, più incisivo o meno a livello di tutto il mondo. E sicuramente questo ha cambiato il modo in cui interagiamo tra di noi, ma anche il modo in cui ci relazioniamo ai contenuti che ci vengono proposti. Gli eventi di persona si sono dovuti fermare, non hanno potuto avere luogo quasi ovunque e quindi ci si è diciamo abbastanza naturalmente spostati sugli eventi da remoto. Molti dipendenti di vari settori, varie realtà hanno dovuto cominciare a lavorare da casa e tutto questo spostarsi diciamo in una realtà un po' più virtuale era già un trend esistente ma che ovviamente per via di questa emergenza ha dovuto accelerare moltissimo. Molte aziende hanno dovuto per forza di cose adattarsi più rapidamente, innovare, per riuscire a rimanere produttive e competitive perché l'alternativa era fermarsi e ovviamente non era non era possibile prendere in considerazione questa cosa. Un esempio pratico anche che possiamo fare anche come Avixa è come gli eventi live, quelli che erano nati proprio come eventi solo in presenza, si sono pian piano ibridizzati, sono diventati un po' più ibridi. Cosa significa? Che appunto ci si è dovuti convertire un po' all'utilizzo di delle piattaforme online per sostituire ad esempio le presentazioni, le conferenze, tutto ciò che era appunto l'evento live, la fiera. E questa cosa qui non si perderà del tutto, cioè il fatto di essere riusciti a passare, a innovarsi e riuscire a passare, a spostarsi a un livello più di appunto realtà online virtuale non si perderà e probabilmente quindi anche quando si potrà tornare a fare gli eventi in presenza si manterranno i vantaggi, i lati positivi dell'avere anche una possibilità online. Quindi ad esempio una possibilità di raggiungere un pubblico maggiore perché se c'è la possibilità di seguire l'evento o parte dell'evento anche da remoto sicuramente anche chi non ha la possibilità magari di viaggiare, di raggiungere il luogo dell'evento può partecipare da remoto. Oppure si possono registrare gli eventi o gli interventi, le conferenze e sono poi visibili in un secondo momento e questo sicuramente non può che portare anche valore aggiunto agli eventi in sé. Questo ha toccato anche l'ambito education, della formazione della scuola che anche appunto subito situazione di emergenza si è dovuta adattare, si sono dovuti adattare gli spazi, gli ambienti e soprattutto anche il modo, i programmi dell'insegnamento, e i professori stessi hanno dovuto cambiare le loro modalità di insegnamento e adesso che si spera si riuscirà a tornare a scuola in presenza, anche qui non si perderà del tutto ciò che si è imparato in questi mesi di possibilità di lezioni online, lezioni magari registrate che possono essere usufruite anche in un secondo momento. E quindi diciamo questo tipo di emergenza ha forzato l'innovazione appunto all'inizio in modo un po' magari critico, nel senso che ci si trovava in una situazione di emergenza, si è dovuto un po' improvvisare, ma sicuramente si può imparare per il futuro. L'audio video è di grande aiuto in questo momento per mantenere i contatti nel momento del distanziamento personale, ma a tutti manca il poter fare esperienza in prima persona, degli eventi così come degli incontri personali. Secondo voi l'audio video riuscirà a porre rimedio anche a questo? Assolutamente sì, e non solo, abbiamo anche un ruolo da protagonisti perché ovviamente per realizzare tutto ciò che è questo spostarsi a livello più online, di videoconferenza, eventi live, in streaming ovviamente il settore dell'audio video non può che essere il protagonista di tutto questo cambiamento. L'experience diciamo di persone in presenza a cui siamo abituati ci manca e quindi senza dubbio il trend sarà quello di cercare di tornare il più possibile a com'era la situazione prima. non è detto che sia possibile del tutto, non è detto che sia possibile subito e io credo, sono sicura che la tecnologia in questo, la tecnologia audio video non potrà che essere di grande aiuto nel fare in modo che se davvero non si potrà magari subito, magari per sempre davvero tornare a quello che eravamo abituati a chiamare l'experience, l'esperienza di persona prima, si potrà comunque raggiungere una exceptional experience grazie all'utilizzo delle tecnologie. non si potrà replicare quello che era l'esperienza in prima persona in virtuale ma non avrebbe neanche granché senso cercare di copiarlo perché non sarebbe granché possibile ma senza dubbio si può appunto fornire un valore aggiunto al pubblico cercando quindi di trarre da questo grande momento di difficoltà delle opportunità di crescita e come dicevo questo cambiamento in cui appunto questo tipo anche di eventi in persona diventano sempre più ibridi mescolati anche al virtuale porteranno a sicuramente un tipo di experience diversa ma non per questo o meno di valore.